Faci deve essere. Torniamo ai tatuaggi, Barbara Romano. Che cosa stai facendo? Un tatuaggio temporaneo. Ho paura degli aghi e mi sembrava il giusto compromesso per avere un tatuaggio. Quanto tempo dura? Una settimana minimo. Poi può andare oltre fino a due o tre settimane. I tatuaggi temporanei si fanno con un colore naturale, marroncino, che si chiama ennè. Ma come si fa a garantire la durata e la somiglianza a un vero tatuaggio nero? Si usa un colorante vero addizionato di alcuni additivi e questi sono veramente pericolosi. Il principale, quello che normalmente viene usato, è la parafenildiammina. Questa sostanza chimica è un forte allergene. Viene usato nella produzione di tinture per tessuti ed è talmente un sensibilizzante che viene vietato nella produzione dei cosmetici. E noi invece ce lo mettiamo sulla pelle. Ma allora, che reazioni si possono avere? Dermatiti da contatto, c'è un'irritazione della pelle, un arrossamento con comparsa di papulo, di vescicole, di bruciore, di prurito. Poi queste possono portare a delle cicatrici. In caso eccezionale si può arrivare a quello che è uno shock anapilato. Insomma, il tatuaggio è temporaneo, ma la cicatrice resta. Grazie. Grazie. Grazie.